Don Buro invece, per riprendersi dalle fatiche del viaggio, è andato a riposarsi in ciociaria. Buro, raccontaci un po', com'è st'America? E com'è? E' immensa, smisurata, vasta. Se volemo anche tentacolare è un po' caotica. Ma vuoi mettere l'aria inquinata e sossa de Los Angeles con sto venticello de Frosinone? E poi senti, giù va, saremo buro burini. Ma beata l'ignoranza, si sta bene de mente, de core e de panza.